salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo di nuovo sulla serie vanilla come potete vedere noi nell'ultimo episodio eravamo andati a prendere il nostro cavallino eccolo qui quanto è carino sulla strada del ritorno ho incontrato questo villaggio diciamo che mi sono perso e non sapendo dove andare ho iniziato a girare e mi sono incontrato in questo villaggio quindi adesso sono arrivato qui e volevo iniziare a esplorarlo un poco ciao pecorella grazie vabbè lasciamo il nostro cavallino lì andiamo ad esplorarlo un po ci prendiamo un po di risorse quindi un po di grano un po di carote e così via ci possono sempre servire poi cercheremo di tornare a casa e di fare qualcosina nel nostro villaggio magari oggi andremo nel nether perché non ci siamo mai andati ho costruito il portale non ci sono mai andato questa cosa è assurda assurda vi ricordo che la gente in questo periodo sto facendo meno video tutti mi chiedono più video di fare video più lunghi di fare video anche di tanti altri giochi ragazzi siamo in vacanza tutti io ho fatto tipo due mesi di esami universitari in cui sono uscito distrutto da quel periodo c'ho questi 20 giorni di vacanza la prossima settimana partirò però cercherò sempre di portarvi almeno un paio di video a settimana dal 15 quando poi tornerò a casa cercheremo di iniziare una nuova fase di youtube io diciamo che in questi primi quattro cinque mesi ho iniziato la mia vita su youtube il mio canale e non sapendo neanche se se avesse un futuro iniziate a fare video così tanto per divertimento come continuo a farli da settembre vorrò fare sicuramente tanti altri giochi ve lo dico perché comunque a me piace parecchio variare e sul sicuramente a settembre ottobre novembre oddio porca troia diciamo che a settembre ottobre novembre sicuramente ci saranno altri giochi perché usciranno tantissimi giochi per console e quindi sicuramente li affronteremo quindi dal 15 20 agosto io attiverò di più il canale cercherò di fare almeno tre video a settimana e da settembre inizierò diciamo questa nuova fase di youtube in cui cercherò di fare anche qualche collaborazione a me mi piacerebbe molto collaborare con altri youtuber ce ne ho tante in programma ma non ho avuto proprio il tempo di farle in questo periodo ciao scheletro non è che mi dai tanto fastidio però vabbè allora in questo villaggio abbiamo trovato tantissimo cibo e per di più se non mi sbaglio da queste parti eccola lì abbiamo la casa del fabbro tutti quanti nel primo villaggio che incontrammo mi chiedevate trova la casa del fabbro trova la casa del fabbro ragazzi ma nei villaggi non è detto che ci sia la casa del fabbro quindi è sempre un'incognita scheletro di merda e qui c'è la casa del fabbro adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro c'è il forziere vediamo un po dai ah vabbè dai non male tre pezzi di armature in ferro che ci potrebbero servire io lascerei l'occhio di ragno oddio c'ho qualche mob dai dietro no poserei questi fiorellini di margherita e prenderei l'ossidiana e i tre pezzi di ferro cosa posso lasciare la lana grigia la lascio prendo questo poso questo prendo questo perfetto quindi abbiamo preso tutto quello che c'era all'interno della casa del fabbro io direi di dare un occhio ai villaggeri per vedere se c'è qualche villaggero che potrebbe esserci utile lo so che in futuro dobbiamo sicuramente fare una farm di villaggeri però lo faremo nel villaggio che ho vicino casa questo è troppo lontano io adesso già già adesso non so come tornare a casa perché è lontanissimo da casa questo villaggio dove ho messo il cavallo rocchi dov'è rocchi qua ci sono altre patate guardate quanta roba patate carote c'è di tutto non c'ho più spazio non c'ho più spazio butta ste cordicelle di merda butta sta carne marcia di merda quindi ragazzi non vi preoccupate io spero che il trailer io io spero che il trailer del canale vi sia piaciuto spero che aiuti anche il canale a crescere e da settembre partiremo a bomba con tantissimi video sia su console sia su pc quindi dovete solo aspettare questo mese divertitevi fate anche voi vacanza perché tutti ne hanno bisogno dai ragazzi più piccoli a quelli più grandi a quelli che fanno l'università quelli che hanno gli esami a liceo a quelli che lavorano tutti hanno bisogno di vacanza e di riposarsi dov'è il mio cavallo dove cazzo l'ho lasciato cavallo io non lo trovo rocchi sto cazzo villaggio enorme dov'è rocchi allora rocchi stava da stava sui tetti lo abbiamo lasciato se non mi sbaglio oddio quanti sono quanti cavolo sono ragazzi lasciate in pace villageri non vi hanno fatto nulla scatateli tra poco morirete tutti eh ho tanta voglia di ucciderli e fare un po' di exp ciao ragazzi vieni 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 tu tanto nessuno mi calcola perché vogliono uccidere villageri si 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 oddio 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 su 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 Perfetto Un po' di axe per noi In tutto questo il cavallo non so dov'è Cavallino Lì c'è un ragno Io non so dove l'ho messo Eccolo Che cazzo sei andato a fare fin lì Come hai fatto? Dio mio Che cazzo di fine avevi fatto Oddio Ma vai via Vai via Ragazzi io Cerco di trovare casa Perché cercando di trovare casa ho trovato questo villaggio E mi sembrava giusto farvi vedere Il villaggio che abbiamo trovato I oggetti che abbiamo trovato E tutte le risorse Adesso cercherò di trovare casa Io l'unica cosa che ricordo è che dobbiamo passare il deserto Quindi la casa dovrebbe essere Dopo questo deserto Oddio quanti mob Veramente sono tanti Cavallino Corri un po' dai Aia Una bella freccia nel culetto Dai su Ragazzi cercherò di trovare casa E se ci riuscirò Continueremo questo cazzo di episodio Ragazzi penso di essere quasi arrivato Qui c'è le nostre fosse di creeper Eccola qui Sei cazzo Dopo 15 minuti Non ce lo sono riuscito a trovare casa La nostra bella casa che non vedevamo da un po' E quindi possiamo adesso Adesso aprire E mettere Perché non entra? Pallino Perché non entra? Non riesce ad entrare? Cos'è sta cosa? Entra 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 Perfetto Poi vedremo perché Non riuscivo a farlo entrare Abbiamo bisogno anche di una cinghia Per legarlo Ma non abbiamo le slime ball Oddio qui quante Quante ovetti che ci sono Datemi tutti gli ovetti Guardate quanti polletti che ci sono Ovviamente Oh tu che ci fai qui Ci sono tanti polletti Ogni tanto si baggano Ed escono fuori Vabbè fa nulla Però qui dentro Ci dovrebbe essere Eccoli qui Tantissimo pollo cotto a noi Quindi tanto cibo per noi Non abbiamo né le pecore di colore blu Né le pecore di colore verde Quindi Prendiamo Un secondo Vediamo se li trovo Allora abbiamo dei lapislazuli Poi abbiamo una tintura azzurra E dobbiamo prendere dei cactus Per fare il verde Allora i cactus stanno qui E facciamo così Mettiamo a cucinare Oddio No basta Sono troppi Due di Perfetto Due di cactus Allora prendiamo la nostra tintura verde Quindi abbiamo tintura verde cactus Tintura azzurra E lapislazuli Penso che direttamente con lapislazuli si colori Proviamo Quindi entriamo nel nostro recinto di pecore Fatemi entrare bagasce Tu pecora bianca diventa blu Sì Tu pecora bianca diventa azzurra Oh quanto è carina E tu altra pecora bianca diventa verde Perfetto ragazzi Le abbiamo prese Tutte quante di colori Non so se esistono altri colori Forse ci manca la pecora nera E poi che ci manca La pecora nera La pecora grigia Però i colori L'arancione Non vedo l'arancione Perfetto Aspettate Perché i fiori arancioni Ce li ho Perfetto Adesso tu bianca diventa arancione Quest'altra bianca la facciamo diventare Oddio Ho sbagliato Vabbè Fa nulla Abbiamo fatto tutti i colori possibili Guardate questo verde Ma questo verde è diverso da questo Oddio è fighissimo È bellissimo Le abbiamo quasi tutte ragazzi Tutti i colori abbiamo Adesso diamo una bella cesoiata Lana bianca la posiamo Perfetto Abbiamo posato tutto Adesso voglio andare All'interno del nether Quindi la lana blu La andiamo a posare Questi attrezzi ci possono servire Io per sicurezza La corazza in diamante Non me la porterei Io penso che in ferro Stiamo messi bene Tanto nel nether Alla fine Non è che Chissà Che rischi Dobbiamo prenderci Dobbiamo solo dare un'occhiata E vedere se riusciamo a trovare la fortezza Ragazzi siamo pronti Ad andare nel nether Siamo pronti Mangiamo Ci siamo ragazzi Sempre una figata La cosa bella è che sono Sponato Con questo portale Su questo materiale Che se non mi sbaglio È il materiale dove si possono coltivare I funghi Questi qui del nether Chissà se si vedrà bene La registrazione O se verrà scura Vabbè Proveremo Allora Io direi di fare Prima di andar via Di fare una sorta di Stanzetta Di sicurezza Perché sto veramente in bilico Non so perché Sto in bilico Qua sopra Voglio fare Una piattaforma Tranquilla Ciao 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 Ciao